Diciamo che abbiamo fatto abbastanza in fretta, abbiamo avuto una settimana di prova per vedere anche dal punto di vista fisico le risposte e poi dai, fine settimana c'è stato l'accordo verbale e nel discorso ho potuto firmare il contratto. Con chi ti era allenato? Mi erano allenato con i Forlì fino al 19 di novembre. Tu sei lì? Io sono di Bambia Magna. Sì, avevo avuto un po' di problemi fisici, è stato un po' dura da risolvere e poi adesso sono posto. Diciamo che il gol ha subito messo in una certa direzione una partita, però è anche vero che ci sono stati bravi comunque a concedere proprio il minimo a Vicenza che si giocava una partita importante perché dovevano dimostrare di essere in crescita e invece hanno trovato una squadra che era messa bene in campo che ha dato proprio figlio alla torcia e ha dimostrato che con un'ottima organizzazione ha parlato di altri punti importanti. La cosa principale sicuramente è ritrovare sempre più continuità attraverso allenamenti perché dopo esserci fare abbastanza mi manca un po' di minutaggio quindi il mio obiettivo è cercare di aumentare la condizione fisica e farmi trovare pronto se il mister deve essere a bisogno. Grazie. Grazie.